Siamo con Paola Preda, Country Manager Italia di Sandals Resorts International. La prima domanda che ti farei è l'andamento delle strutture Sandals in Italia. In generale, quali sono le strutture più richieste dal mercato italiano? Buongiorno a tutti, innanzitutto. Possiamo dire che questo 2018 è iniziato molto bene. Abbiamo un trend molto positivo, un incremento di oltre il 20% delle vendite. I resort che sono più venduti sono Turks & Caicos, Pole Position, quindi ha superato Antigua. In effetti, anche quest'anno, la spiaggia di Grace Bay è stata nominata la spiaggia più bella al mondo da TripAdvisor, quindi un'ottima destinazione per il nostro mercato, che ama moltissimo le belle spiagge, seguito poi da Antigua, Bahamas e abbiamo anche un grande interesse per la destinazione Barbados. Infatti, è una destinazione su cui noi quest'anno stiamo puntando molto. Bene, e quali sono i progetti in campo a livello di infrastrutture? Allora, infatti, la grossa novità riguarda proprio la destinazione di Barbados. Abbiamo aperto un nuovo resort il 20 dicembre dell'anno scorso, il Sandals Royal Barbados. Questo resort è, diciamo, che rappresenta il meglio che la famiglia Sandals offre, con tutte le tipologie di camere più belle ed esclusive che abbiamo, dalle sky pool alle rondoval alle swim up, quindi bellissime suite. Abbiamo camere 222 camere e sono tutte camere dalle club level in su, quindi non abbiamo camere di livello standard. È una destinazione che piace molto agli italiani, grazie anche alle bellissime spiagge, e poi soprattutto è un nuovo stile di Sandals che attira molto. I nuovi resort a Sandals sono appunto questo ultimo nato e anche quello di tre anni fa, il Sandals Barbados, due resort a Tigui, che offrono quindi ai nostri ospiti la possibilità di usufruire dei servizi l'uno dell'altro, quindi due resort, diciamo. Una programmazione molto articolata. Qual è il vostro programma di formazione rivolto al trade? C'è una grande attenzione da parte di Sandals sulla formazione alle agenzie di viaggio in tutta Italia. I nostri quattro business development consultant, che coprono tutto il territorio in Italia, tutto il territorio nazionale, fanno dei corsi di training individuali alle singole agenzie, e adesso va molto, diciamo, di moda il masterclass, che sono dei veri e propri seminari di due o tre ore, dove vengono raccolti gruppi di agenzie e dove c'è la possibilità di approfondire i nostri resort, e quindi il nostro prodotto, per una migliore conoscenza e quindi una migliore vendita del resort Sandals in Italia. E allora, buone vendite a tutti! Grazie!